Ma non ero soltanto io che pensavo che questa fosse la missione d'Europa, erano i Mitterrand, i Brandt, gli Schroeder, i Prodi che dicevano che questa era la missione dell'Europa, quindi non è un fallimento mio o suo, è un fallimento di quella che doveva essere la missione strategica, politica, culturale, storica dell'Europa, dove è andata? Da nessuna parte è andata, adesso l'Europa è puramente e semplicemente atlantica, non è né mediterranea né orientata a est, è atlantica, punto e basta, quando poi c'è stata la secessione, chiamiamola così, della Gran Bretagna dall'Europa è diventata atlantica ancora di più, perché ha dovuto mettersi all'inseguimento della Gran Bretagna, ovviamente, per non rimanere completamente spiazzata nei confronti degli Stati Uniti.